Le città andrebbero vissute e scoperte con chi le città appunto le abita, quindi sì è necessario lo sguardo del turista curioso, ma servirebbero appunto le conoscenze, le competenze di chi quella città la vive, la frequenta, la abita giorno per giorno e questa non è una guida, questa è una bussola, una bussola che vi permetterà di orientarvi fra le centinaia, le migliaia di proposte che Milano, meravigliosamente rinnovata grazie a Expo, vi offre ed è soprattutto il racconto o meglio i racconti delle tante Milano che potrete incontrare attraverso diversi tour tematici, ovviamente alla scoperta anche dei locali, dei ristoranti, dei negozi, delle mode, delle abitudini, per cui buona Expo sicuramente e soprattutto buona City. Grazie a tutti! Grazie a tutti!